Ehi amici, segnate questo numero sotto la panza, segnatelo bene, è il numero per chiamare al caffone quando tenete i problemi, voi mi chiamate e io subito vengo da voi, chiamate, ma chiamate solo per i problemi, non chiamatevi a fesseri, stavate bene, voi mi chiamate, già sto venendo, direi me, sto venendo già!